Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books io sono Tiffany e dopo un sacco di tempo torno a fare i preferiti in questo caso parliamo dei preferiti di dicembre c'è di mezzo un po' di tutto, ovviamente parto come sempre da musica, cinema e serie tv, ma soprattutto serie tv direi in questo caso libri e poi in fondo mi tengo la parte di acquisti e amenità varie parlerò anche di podcast, parlerò di playlist eccetera come sempre giù nell'info box trovate tutti i link a tutto ciò che elenco, dico, faccio brigo se trovo anche i link di affilazione ad amazon, cosa che non credo però vabbè, vi metto tutto giù, ci sono le playlist, c'è tutta la parte, insomma c'è tutto quindi non ci sarà bisogno di fare troppa ricerca ho tante cose di cui parlarvi e quindi direi di iniziare parto dagli album perché in generale sono album che ho consumato in realtà poi questi sono dei preferiti un po' di novembre e dicembre messi insieme perché tanti mesi che non li faccio non mi ricordo nello specifico quando ho fatto l'ultimo video comunque un'era geologica fa in ogni caso album sicuramente un po' dell'anno e in generale del mese di dicembre è sicuramente Magdalene il disco di FK Twigs allora già il video di Cellophane era qualcosa secondo me di pazzesco perché è proprio visivamente bellissimo è un trip assurdo ma tutto molto studiato tutto assolutamente cioè dal punto di vista artistico è qualcosa di grandioso a mio parere è bellissimo tra l'altro è proprio una sonata al piano disperata insomma ci sono diverse frasi che secondo me sono molto importanti nell'atmosfera di Twigs e in tutto il suo mondo nel creare il suo mondo e insomma anche le sensazioni che lei esprime sono secondo me cose assolutamente nei quali è facile identificarsi e lei trasporta in musica in maniera pazzesca io lei la amo cioè oltre ad essere bellissima è bravissima in tutto è una ballerina straordinaria ha fatto un disco secondo me incredibile e per me è già il disco dell'anno l'ho ascoltato proprio a ripetizione macinando pezzo per pezzo perché è bellissimo è un disco dove le emozioni e diciamo la vita personale di Twigs sono proprio state messe su musica è un'opera fondamentalmente dove tutto acquisisce un senso circolare è un disco bellissimo allora Magdalene è il disco dell'anno è un disco pazzesco i miei pezzi preferiti del disco sono chiaramente Cellophane sicuramente perché è una di quelli che mi sono ritrovata spesso anche a cantare cioè proprio what I do it for you cioè è qualcosa che ti rimane e non so io lo dicevo spessissimo mi sono ritrovata proprio tante volte a ricantare l'altro pezzo secondo me è pazzesco è Sad Day che è proprio il mio preferito di tutto il disco e comunque è un disco bellissimo è un'opera cioè mi viene da pensare proprio all'opera insomma avevo detto che sarei stata breve sugli album altro disco che ho ascoltato tantissimo è quello di Post Malone anche se in realtà è un disco che secondo me non merita tutti questi ascolti però da sottofondo è assolutamente molto piacevole Circles che è il singolo penso di averlo infilato in ogni playlist possibile, immaginabile non so per me è molto piacevole non si merita tutta questa attenzione assolutamente cioè io penso che in realtà Hollywood's Plating non sia un disco eccezionale ma comunque piacevole prodotto bene con una vera molto pop di Post Malone che si intreccia ad altre cose qui ci sono tipo duetti con Ozzy Osbourne e... boh cioè non si è capito però devo dire che comunque in ogni caso insomma lo trovo un disco assolutamente piacevole come sempre non vi posso mettere gli estratti di nulla se no YouTube mi uccide il canale e invece passando all'ultimo disco del mese probabilmente del mese sì del mese diciamo è Heavy in the Head l'ultimo disco di Stormzy che è il mio rapper ufficialmente preferito del momento io gli voglio un sacco bene mi fa un sacco ridere è veramente il street gangsta della periferia di Londra che io volevo ascoltare e secondo me questo disco è veramente molto molto intenso molto molto pazzesco il senso un po' di tutto il disco è quello di riappropriarsi delle proprie radici e restituire una propria narrazione della propria storia e non so è tutto bello tutto figo Stormzy è un figo e... non lo so io continuerò a spingerlo perché secondo me anche le sue liriche sono sempre super intelligenti e questo disco ne la conferma secondo me questo è un po' il disco che gli farà fare il salto il suo grandissimo problema sul mercato estero che ha un accento super super inglese quindi I'm sorry ma comunque è un gran bel disco quindi anche questo segnatevelo ed ascoltatevelo ci hanno anche messo bossy bop nel caso proprio ecco invece passo ai singoli singoli cose che ho ascoltato moltissimo al di là di tutto ciò che viene da FK Twigs e Circles che vi citavo prima in realtà io ho mangiato un singolo ultimamente a caso praticamente mi sono innamorata di Pine and Ginger che è un pezzo stranissimo che ha delle riminescenze sicuramente afrobeat reggae dancehall non lo so tropical house alcuni lo definiscono che mi pare un po' strano però vabbè insomma è un pezzo bellissimo io adesso ve lo giuro sono settimane che penso I got Pine and Ginger sono così tutto il tempo quindi è un pezzo bellissimo ah di Amindi che forse mi scordavo di citarvi l'artista l'ho visto citato forse da qualcuno in una playlist da lì sono andata a recuperare e insomma mi sto ascoltando un po' di queste cose nuove Jamaica New Sound New così anche Coffee mi piace molto come artista e vabbè comunque insomma sto delirando in realtà dovrei parlarvi dei singoli l'altro pezzo che è proprio divorato perché lo sentivo in radio dall'emissione innamorato è di Luz and the Yakuza che è Dilem cioè che poi è Dilem ma in realtà anche Tutte e Gore che è l'altro singolo piace tantissimo è bravissima è super simpatica ho sentito diverse interviste su di lei è una storia ovviamente particolare belga però originaria del Rwanda è fighissimo cioè i suoi pezzi secondo me sono molto fighi hanno questo french touch che ci piace sempre soprattutto nel mondo hip hop io lo trovo sempre interessante ma poi ci mette del soul di mezzo e non solo insomma è figa veniamo alle playlist invece così poi dopo chiudiamo l'ambito musicale probabilmente un po' perché ho preso la macchina nuova a ottobre e quindi sono spesso in macchina un po' per altre insomma cose che abbiamo fatto un po' di giri in questo periodo soprattutto sotto le feste ci siamo messi ad ascoltare spesso una playlist di spotify che si chiama Indie Road Trip c'è diciamo dentro tantissime cose classici e cose nuove cioè davvero ci sono gli LCD Sound System c'è Wolf Alice gli Arcade Fire TV on the Radio Grizzly Bear Warren Drugs Courtney Barnett Maximo cioè insomma ci sono cose un po' strane dentro però è una playlist bellissima quando si guida devo dire che insomma io che non amo guidare ma sono costretta a farlo abbastanza spesso e l'ho trovata super super figa come playlist da viaggio un po' di classici così ti fai il tuo singalong un po' di cose nuove un po' cariche così riesci a scoprire anche pezzi nuovi mentre guidi insomma super super carina invece c'è altra playlist che in realtà è una soundtrack riportata come playlist è la colonna sonora di The Boys di cui poi parliamo anche dopo e questa playlist è stata la vita praticamente io penso di aver visto questo telefilm saltando sul letto da quanto ero carica per i pezzi che stavano passando perché vabbè parti super classici perché abbiamo i Clash the Runways i Black Rebel Motorcycle Club i Dumbled io ero cioè quando è partita Neat 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 dei Dumbled io ho smesso di avere controllo su me stessa è una playlist di Amar Chord ma non solo ci sono anche tanti pezzi molto fighi nuovi e io la trovo super figa e ve la suggerisco tantissimo questa è un po' la playlist carica di tutta questa fase musicale dove io includo pochissimo punk però è un periodo dove non ascolto prevalentemente punk anche rispetto al passato comunque sono più personalità un po' più rilassanti perché spesso ascolto la musica mentre lavoro e quindi non vorrei essere super nervosa mentre faccio ricerca mentre mi aiuta invece un sacco quando faccio post produzione perché è il modo per darmi una mossa ok that's it con la musica invece playlist velocemente questa ve la racconto perché probabilmente sono rimasta solo io che insomma non c'ero ancora arrivata e non avevo ascoltato comunque tra secondo me inizio novembre massimo forse anche un pelo prima ho finalmente ascoltato il podcast di veleno di Fabio Trincia e insomma essendo una storia che è anche una storia emiliana fondamentalmente non so mi pigliava un po' male sentirla ascoltarla in realtà è super figa un podcast bellissimo penso che ormai l'abbiate ascoltato tutti mancavo solo io comunque ricostruisce i fatti avvenuti nella bassa reggiana barra provincia modenese legate ai servizi sociali come alcune storie legate insomma alle questioni dei servizi sociali sia in realtà molto torbide e tutt'oggi non abbiamo nessuna certezza su alcuni casi il podcast è fatto da dio la cosa che mi è piaciuta di più di tutto il podcast insomma all'inizio del podcast la tesi è abbastanza diciamo diretta questo è quello che è successo e tu credi che quella sia insomma il risultato che quella sia la verità più vai avanti più la prospettiva si ribalta e ti mette sempre più dubbi è costruito davvero bene come podcast l'ho trovato a parte preciso con tante interviste toccante perché la tematica è chiaramente molto toccante ma soprattutto l'ho trovato davvero fatto molto bene interessante la prospettiva tutto tutto preciso insomma mancavo solo io finalmente ce l'ho fatta recuperare è che pensavo in realtà essendo qualcosa di crime true crime in questo caso e non solo che non fosse tanto il mio genere in realtà è bellissimo va bene per tutti questo è veramente un podcast che suggerirei a tutti perché è pazzesco arriviamo alle serie tv devo dire cinema poco perché ho visto veramente pochissimi film in questo periodo non ero particolarmente da film però invece ho visto tante serie tv e sicuramente la mia serie di dicembre perché l'ho conclusa a dicembre è a mani basse watchman che in realtà è proprio la serie dell'anno è una serie che non consiglio a tutti assolutamente perché rispetto al film di watchman secondo me qua delle conoscenze pregresse un pochino servono e soprattutto non è una serie facile la cosa che a me watchman è uno dei miei fumetti preferiti e in realtà a me il film non era neanche dispiaciuto poi tantissimo più che altro per la colonna sonora in realtà ne ho un ricordo molto positivo soprattutto per la colonna sonora però sì diciamo che il finale soprattutto la mancata ambiguità di alcuni protagonisti insomma sono le problematiche del film di watchman oltre al fatto che insomma il tono è molto buonista eccetera però ti cazzi c'era spettro di seta spettro di seta è una delle mie eroine del cuore perché è sempre stata buonissima vabbè ma comunque non siamo qua a parlare del film ma la serie la serie che prende inizio fondamentalmente in un futuro distopico e reimmaginato anni e anni dopo vent'anni se non erro dalla fine di watchman si rivede in questa società dove insomma tutto l'ordine è completamente ribaltato mi è piaciuta moltissimo soprattutto perché non è una serie secondo me da trangugiare non è una serie dove riesci a vedere 5-6 puntate di fila cioè dopo la prima già sei un po' destabilizzato alla seconda un attimo devi riprendere fiato e assimilare ciò che hai visto è costruita benissimo i personaggi sono dei personaggi molto strani molto poco amabili i personaggi che probabilmente non sono sicuramente dirompenti che bucano lo schermo nonostante le maschere nonostante tutto bellissimo anche il modo in cui tratta alcune tematiche per me è stato davvero interessante è la mia serie dell'anno assolutamente a mani basse e avendola finita a dicembre sono molto contenta di annoverarla tra i miei preferiti del mese in più a dicembre ho visto anche il principe dei draghi che per me come serie animata rimane una serie bellissima fatta con tutti i crismi del caso è una serie per ragazzi sicuramente ma che parla tanto anche a chi non è più un ragazzo ormai da un po' e la trovo fatta benissimo la storia reggia pieno le dinamiche sono credibili questa forse la terza serie è la serie un po' più debole però comunque è assolutamente da guardare io lo consiglierò sempre è uscito anche Rick e Morty e che dire la serie più geniale della storia e quindi insomma il libro del mese invece è a mani basse ovviamente The Starley sì ve ne ho già parlato nella top dei 2019 ma poi ve ne parlerò nel dettaglio in una recensione dedicata che ancora devo girare quindi non ne parleremo in questo momento comunque Erin Morgenstern dopo più di dieci anni è tornata meno male che ci ha messo dieci anni a scrivere questo libro perché è un libro pazzesco secondo me tocca degli apici inarrivabili lo trovo un romanzo assolutamente immersivo e questa è la sua grandissima forza soprattutto perché la tematica che è quella comunque dell'amore per le storie è qualcosa che è trattata in un modo assolutamente vicino al cuore di ogni lettore in una maniera che non è mai 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 banale e non so io sono contentissima di questo libro comunque insomma lo attendevo tanto il fatto che si sia confermata un'uscita preziosissima insomma sono molto felice invece passiamo alla parte amenità varie cose insomma non del tutto utili che però sono su questa classifica quindi acquisti beauty vestiti che in realtà non credo ci saranno in questo ah no ce ne sarà uno ok in questo caso ci saranno un po' di varie amenità beauty makeup cose varie ed eventuali così se non vi interessano potete abbandonare alla grande allora parto da una cosa che pensavo che non avrei mai 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 discusso qua però insomma la trovo super figa ed è stata molto utile in questa settimana me la sono studiata e ci ho messo del tempo che è il bullet wannabe di creme creamy di miss creamy creamy in pratica vi linko comunque sotto il link allora a parte il colore che mi piace tantissimo allora io cercavo un'agenda 2020 quanto pare diventa difficile trovare delle agende con quello che cerco io in realtà io odio perdere tempo nel farle e in questo caso questo è un bullet journal di base ma è un bullet journal molto molto guidato e molto molto libero allo stesso tempo che è un controsenso però in pratica vado avanti così non vi faccio vedere i miei impegni ogni mese c'è un recap che è super utile poi dopo se vi interessa ci avete dei tracker degli eventi degli appunti vari ed eventuali ma diciamo che per me la cosa molto utile molto semplice da gestire è la questione della settimana perché così riesco ad appuntarmi tutti i to-do gli appuntamenti del giorno perché poi c'è spazio su due colonne quindi potete tranquillamente fare una to-do list da un lato cosa che a me è molto utile perché sono un po' persa e mi viene un sacco di ansia quando non riesco a organizzare il mio lavoro in piccoli tasks e invece dall'altro lato potete mettere gli appuntamenti quello che vi pare super super utile il meal plan che in questo caso c'è io l'ho trasformato e lo sto usando in tutto tranne che meal plan perché manca solo che mi metto a segnare che cosa mangio ci sono liste della spesa altre zone di appunti note insomma tutto è strautile molto organizzato molto poco sbattimento che per me è qualcosa di essenziale potete gestirlo in realtà come un bullet molto completo personalizzarlo particolarmente per chi come me invece odia sprecare tempo nell'organizzazione ma la trova comunque utile io mi sto trovando davvero molto bene sono davvero super soddisfatta di questa e ringrazio anche Daniela che me l'ha mandata inconsapevolmente delle mie grandi incapacità ma stra stra carina altra cosa che ho davvero tanto usato ed è veramente comoda utile bellissima è questa book sleeve che era dentro l'illumicrate di era l'edizione speciale di Starless Sea raffigura Hogwarts però fondamentalmente non è così chiaro però comunque affascinante molto bella ha questo tessuto che è simil pelle plasticoso eccetera che quindi lo rende anche impermeabile quindi molto utile se come me è andata a fare le foto in mezzo ai campi dove c'è del fango in questo periodo si lava è utile è morbida è abbastanza imbottita senza sembrare enorme perché non farsi le unghie in questo momento quando io sto girando il video giustamente passo alla questione abitini cosine cose del genere la prima cosa in realtà che vorrevo farvi vedere ma è a lavare è il mio pijama di Batman che ho preso da Primark so che non si compra da Primark abbiamo fatto un salto una volta qua vicino a Firenze e insomma ho visto questo bellissimo pijama morbidissimo ovviamente bambino 7-8 anni come tutto ciò che fondamentalmente va a me perché sono nana e piccolina e quindi insomma sono fortunata perché mi vanno le cose da bimbi ed era bellissimo ovviamente solo nella sezione da maschio perché figuriamoci se le femmine possono amare Batman ma vabbè a parte il sessismo che viene spinto dalle big corporation altra cosa che invece mi è piaciuta molto e che mi avete sicuramente visto nel video dei top è questa camicettina qua sempre di Primark so che è brutta il materiale è riciclato in realtà al 70% questa è stata una cosa molto buona io non compro il fast fashion è molto raro cerco di comprare poco comprare in maniera anche sostenibile però in questo caso era super carina poi io amo i colli così grandi piacerà solo a me però sono molto contenta di questo acquisto passiamo ufficialmente al make up e ai prodotti beauty in questo caso visto che stavamo parlando di Primark vi faccio vedere questo che è un nuovo profumo che io non so perché mi ci sono avvicinata è raro che mi avvicina i profumi ma questo costava 4 euro quindi è costato un'inezia sarà fatto di amianto evidentemente sempre di Primark in questo caso si chiama Mink ha questo colorino grigio violaceo indaco probabilmente indaco un po' scuro e quindi niente in realtà mi sono avvicinata al counter ho visto che c'era la pera che è un altro odore che io amo moltissimo associata a un sapore di bergamotto in qualche caso e altre fragranze che in questo caso non ricordo perché tra l'altro nemmeno sono scritte qua sopra quindi meraviglioso però è buonissimo mi piace tantissimo è molto leggero quindi non è di quei profumi che ti soffocano e quindi niente insomma è stata una sorpresa tra l'altro per un prezzo irrisorio tra l'altro la boccetta è in vetro quindi bene e invece l'involucro esterno era completamente in cartone e quindi insomma anche dal punto di vista ambientale non è uno schifo invece sempre parlando di boccette in vetro in questo caso art prodotto di The Ordinary che è una marca che io uso da diversi anni ho alcuni fedelissimi che ormai non mi abbandonano come l'acido ialluronico e la caffeine solution per le occhiaie che non è in realtà un grande alleato però insomma meglio che niente e in questo caso ho voluto provare il multi peptide serum for air density questa infatti è della linea air care perché praticamente è un periodo dove ho perso tantissimi capelli come tutti perché è chiaramente cambio di stagione però me li sentivo parecchio parecchio alleggeriti ultimamente confermato tra l'altro dalla parrucchiera in questo caso gli avevo preso il multi peptide serum perché è uno stimolante della crescita dei nuovi capelli e infatti devo dire che il più grosso risultato è l'addensarsi e il fatto che si veda che ho un sacco di capelli nuovi perché mi rendo conto sempre che ho questa zona qua che ora è piena di capelli nuovi molto corti che fanno una sorta di nuvoletta adesso è complesso da spiegare però mentre pensavo che fosse sole unicamente umidità mi sono resa conto andando avanti nelle settimane che non è umidità io lo sto usando da più di due mesi l'ho quasi finito in realtà quindi insomma però si vedono tantissimi risultati va usato con costanza praticamente tutti i giorni e mi trovo super bene e insomma non credevo però avevo letto recensioni stramega positive però sapete che i capelli e insomma il cuoio capelluto sono cose molto personali ognuno ha un po' la sua reazione e insomma il suo modo di approcciarsi a queste cose però devo dire mi trovo super super bene credo sia da metà ottobre che lo use quindi insomma ve lo consiglio io mi sono trovata molto bene tra l'altro costa tipo 15 euro quindi ecco ambito makeup veramente makeup vi faccio vedere delle cosine nuove il primo che è un mio nuovo preferito è un eyeliner che insomma io ho rimandato l'acquisto di questo eyeliner un sacco di tempo a me non piace questo tipo di impostazione dell'eyeliner ma questo lo trovo veramente ottimo e vi sto parlando del deep love di Clio Makeup chiunque abbia provato i prodotti di Clio sicuramente può testarne la grossissima qualità credo sia innegabile questo e devo dire che nonostante io odi questo tipo di punta anche se spesso ho comprato quella di NYX eccetera eccetera la trovo pazzesca ce l'ho su in questo momento ce l'ho avuta su in tutte queste settimane è morbidissima scriventissima super leggera a differenza di quella di NYX ad esempio che dopo un po' la punta tende a sfarsi questa è più corta quindi permette sia una maggiore precisione magari nel tratto io poi ho l'occhio tremolino quindi non riesco a fare una riga alla prima botta anzi devo sempre un po' riaggiustare soprattutto nella parte della palpebra mobile e bellissimo davvero bello io tra l'altro mi faccio un rigone nero sull'occhio da quando ho 13 anni quindi ne ho provate di ogni di eyeliner questo è uno dei migliori che io abbia mai provato e non l'avrei mai detto ma ottimo 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 lavoro tra l'altro conferma che insomma Clio io palette non ne ho mai provate perché i colori non mi interessano però devo dire che rossetti e questo e anche il mascara che ho provato e che ho su anche quello in questo momento mi sembrano ottimi ottimi prodotti invece passiamo alle palettes questo è un po' il mese delle palettes un po' per gli autoregali del Black Friday un po' per che me le hanno regalate infatti vi faccio vedere prima il primo pacchettino che è al 100% un regalo che mi è arrivato insieme a questa bellissima candela dalla mia collega Alessia che insomma è il mio braccio destro in pratica è niente la Fell in Dreams di Neve Cosmetics che è un brand che io amo molto Neve però devo dire quando l'ho vista uscire era un po' interdetta per questo motivo ovvero che come vedete i colori sono molto standard barra ci sono pochissimi colori di transizione ovvero uno no volendo anche questo anche il Siberian si può usare come transizione ma l'unico che io trovavo di transizione è il color quindi insomma non ero carichissima anche perché sono tutti colori che più o meno avevo così e poi ho visto un po' di di usi della palette e boh ho detto aspetto a comprarla o quantomeno vediamo se comprarla me l'ha regalata la mia collega è la palette che sto usando di più ultimamente perché è molto desaturata e mi rendo conto che sia strano avere addosso dei colori che non sono parecchio carichi molto saturi rispetto a ciò che insomma è un po' il trend del momento in realtà è una palette che secondo me è usata tutti i giorni è assolutamente valida molto molto utile riesce a darti quel piccolo smokey eye non troppo intenso con cui puoi andare anche a lavorare tutti gli shimmer sono sì shimmer leggermente metallici ma non spam quindi anche insomma per un make up di tutti i giorni si sta rivelando super utile poi è pratica e comoda è piccolissima quindi anche ci volete andare in giro stra stra utile e allora devo dire che a parte il pack bellissimo perché c'è un pattern di gatti e insomma ci piace il pattern di gatti pipi e pupi apprezzano ma è veramente non so come dire ero molto poco convinta di comprarla dopo che me l'hanno regalata e utilizzandola per giorni e giorni interi mi ci sto trovando da dio e mi trovo spesso ad andare qua rispetto a palette molto più sature perché magari qua posso fare una base un po' più leggera poi se ho voglia che ne so devo uscire devo fare altre cose stratifico e intensifico però magari per andare a lavorare per cose easy se non avete grandi sbatti la qualunque non l'avrei mai detto ma veramente si sta rivelando una palette stra utile stra agevole allora invece vado su forse il prodotto dell'anno per me uno dei prodotti dell'anno sicuramente che è la badass lady della sassy collection di mulac è già lurida perché io ho avuto la splendida idea di farla cadere e ho un po' rovinato l'illuminante l'ho ricompattato tiene ma non così tanto comunque palette viso è una palette viso bellissima in questo caso è calda ce n'è anche una fredda e c'è la terra c'è il blush e c'è l'illuminante io cercavo una cosa del genere perché spesso sono in giro mi può tornare utile volevo un qualcosa di leggero comodo pratico e mulac è una no non è una è il mio brand italiano preferito oltre perché la maggioranza degli ingredienti sono di origine vegetale e naturale ma soprattutto perché è sinonimo di qualità pazzesca tutto ciò che ha è super scrivente molto saturo performance davvero pazzesche questa io non so come dirvi ma la sto usando tantissimo tra l'altro quel blush lì davvero basta appoggiare la punta del pennello per avere un effetto molto molto carico e quindi va anche sfumata abbastanza perché se no davvero se sepiggiate troppo vi ritrovate ad essere Heidi va veramente solo appoggiato il pennello e anche insomma la previsione della durata di questa palette sembra davvero molto lunga in realtà dura 12 mesi e penso che insomma la cercherò di usare il più possibile perché mi trovo davvero bene mi piace tantissimo sia il colore che la sfumatura che hanno queste polveri insomma quell'illuminante è bellissimo dà questo effetto bagnato stranaturale è molto carico quindi anche lì bisogna starci molto attenti però mai senza fare il macchione senza risultare un alone insomma vabbè io Mulac lo amo e ve ne ho sempre parlato stra bene credo sia il brand migliore in Italia e anche solo perché le basi sono vegetali e naturali e comunque hanno delle performance pazzesche quindi insomma molto bene così passo all'ultimo ultimo ultimo prodottino beauty di oggi così abbiamo finito la carrellata le avete visti tutti però ragazzi io puntavo queste tre palette da quando sono uscite il mio proposito di quest'anno è quello di non comprare più make up a parte le cose che finisco però speriamo che non lo so ne ho comprato veramente troppo ultimamente comunque insomma queste tre palettine sono di Kaleidos Cosmetic che è un brand indipendente che io avevo visto da uno dei miei canali beauty preferiti che è quello di Annettes che vi linko ovviamente qua da qualche parte e niente praticamente io lo appuntavo perché l'unico colore che non ho mai avuto sono questi qua verdi in più sono molto comodi perché sono delle palettine vedete sono piccole comode da portare in giro e niente il deal del 3 per 59 dollari mi ha conquistata e quindi le ho prese ci hanno messo una vita ad arrivare in più la cosa buona è che il sito di Kaleidos ti garantisce la restituzione della dogana nel caso tu dovessi pagare la dogana adesso sembro una promoter di Kaleidos in realtà non è così però me lo sono studiata per mesi quindi condivido con voi i miei drammi perché avevo grande paura che insomma potesse esserci parte della dogana in realtà loro te la restituiscono nel caso quindi bene cosa che invece tutti gli altri rivenditori di make up ti dicono arrangiati in ogni caso sci-fi futuristic green è in realtà una palette bellissima perché questi due verdi sono pazzeschi e questo nero scrive tantissimo fa anche abbastanza fallout ma è comunque super scrivente questi metallici questi scimmerini sono bellissimi e in più questo in realtà è il mio colore preferito che è una sorta di senape pendente al marroncino che è bellissimo ma poi ci sono anche le altre due cioè le altre due che sono una la cyber bronze e l'altra che ho preso io che è l'astro pink questa che è l'astro pink vedete ha tutti dei colori neutri più anfucsia e uno scimmerino sul rosa rosa e argento è bellissimo è questo colore blu metallizzato ma anche con degli elementi viola e il nero metallizzato con dei glitter dentro che è pazzesco ragazzi questi sono gli acquisti di cui sono più fiera di quest'anno e in più c'è quella che è la bronze che è diciamo la più classica perché abbiamo tre colori transizione e non solo un begiolino un marroncino terra bruciata e un marrone scuro in più ci sono tre insomma shimmer barra glitter questo che è un bronzo proprio vero e puro questo che è un rosso che è bellissimo questo è il mio colore preferito della vita d'ora in poi e questo che è un argento insomma per 59 dollari io ho preso queste tre cose qua sci-fi green cyber bronze e astro pink ci sono anche altre due paletti io ho preso quelle diciamo non fluo perché non vado cioè non uso molti fluo e queste mi sembravano utili per qualsiasi cosa adattabili a qualsiasi cosa e sono bellissime sono tre palettes che valgono tutta l'attesa tutti i soldi che ci investite sono stra mega performanti molto molto saturate e potete farci un sacco di cose ecco con queste tre fondamentalmente fate più o meno tutto il range di trucchi che potete sperimentare fare nella vita non mi sono mai vista così carica di parlare di tutto questo make up perché di solito sono sempre un po' spaventata nel parlarne sul canale perché di solito affrontiamo pipponi un po' più consistenti e niente comunque magari le usi non get ready with me che era un po' la mia idea e insomma vi faccio vedere cosa ci si può combinare comunque il trucco insomma più completo forse più fuori di testa con l'astro pink l'avete visto nel video dell'orosco fiction nel caso siate curiosi e poi spero di usarla il più possibile durante l'anno niente io direi che questo è tutto perché ho veramente sproloquiato un sacco vi ho fatto vedere un sacco di cose spero di avervi incuriosito e spero di avervi spinto soprattutto ascoltare i dischi che vi ho suggerito perché insomma la musica è sempre qualcosa che sono un po' timorosa a portare sul canale perché non tanti seguono e amano questo ambito però per me invece è qualcosa di veramente molto importante però anche le varie aminità insomma ogni tanto ci vogliono io sono abbastanza appassionata di make up e quindi lo trovo una cosa molto rilassante e niente ragazzi fatemi sapere quali sono invece i vostri preferiti di dicembre e non solo e se qualcosa vi ha incuriosito e noi diciamo che ci vediamo al prossimo video ci vediamo al prossimo video ciao ciao